ci sono parecchie novità per quanto riguarda wix perché ci sono 206 mila dollari in palio come vedi la cosa che mi piace di wix da quest'anno quindi dal 2024 per questo exchange è che sta sul pezzo e lista la maggior parte dei token soprattutto i memtoken che adesso vanno tanto come vedi c'è docks c'è sun alpaca addirittura anche coi perpetuals quindi poi possiamo farci trading con leva sia long che short poi c'è anche cat e m box poi c'è la wiki little board ovvero si fa anche a gara tra i migliori top traders e chi arriva ai primi posti riceve ulteriori bonus sicuramente non fanno schifo ti volevo far vedere proprio wix l'applicazione a parte insomma la sua fluidità è molto interessante qua in alto ci sono tutte le promozioni guardate esempio questa qua di 206 mila dollari di price pool come vedi basta che fai trading sul su order che alla nuova cripto che è stata listata ci sono tutti i dettagli un particolare che fa differenza è quello che è scritto con precisione cioè ti spiega tutto quello che puoi fare allora puoi fare trading per guadagnare come vedi fase uno questo è il periodo poi puoi anche mettere a staking ovvero chi mette a staking gli order riceve ulteriore bonus poi ci sono tutte le regole comunque è interessante vedi quindi cliccando qua in alto sull'app la deve avere aggiornata ci sono tutte le informazioni delle promozioni del momento quindi mentre prima diciamo vu si focalizzava solo sull'esperienza utente sulla user experience adesso vu si focalizza anche sulle promozioni a stare al passo coi tempi a stare sul pezzo quindi molto molto migliorato soprattutto per quanto riguarda la sua funzionalità e anche per il marketing da una parte quindi questo mi fa venire in mente investire nel token U che non è un consiglio finanziario però è un token che ha varie utilità farò un video dedicato al riguardo per il token U però iniziano a stare sul pezzo e quindi anche se quando guardi su coin geek o coin market cap i volumi di trading dell'exchange U sono in costante aumento e questo è importante per la salute di un exchange altra cosa non meno importante è che a differenza degli altri exchange che hanno il POR il proof of reserve cioè la prova delle riserve online e l'aggiorno ogni 15 giorni quando va bene e ogni mese quando diciamo va male U la aggiorna ogni 15 minuti quindi è dirompente è un'innovazione interessante perché ti fa capire che i token che te metti sul tuo exchange sono coperti più del 100% e quindi nell'eventualità di una corsa agli sportelli tra virgolette cioè che tutti ritirano U riuscirà a soddisfare il 100% le richieste di ritiro che è una cosa non da poco soprattutto in questa giungla degli exchange e delle cripto perché giungla perché si sta regolamentando adesso quindi è ancora una tecnologia agli inizi siamo solo agli inizi e U la vuol fare da padrone ha aperto anche gli uffici in Polonia ho letto non so non stanno solo più a Singapore quindi nell'est asiatico si sta espandendo e darci un'occhiata in descrizione ti lascio il link al video completo il tutorial completo su U exchange e l'invito VIP con il 40% di sconto a vita sulle tue commissioni che sono già veramente basse su U dacci un'occhiata sfrutta le promozioni ti ringrazio iscriviti pollice all'insù ci vediamo alla prossima ciao